Partire bene non è mai semplice, dà tanta energia e tanto entusiasmo e serve soprattutto per la classifica perché vincere ci porta a cercare di allontanarci il prima possibile e il più possibile dalle zone basse. Sicuramente dovremmo fare tanto ma come è normale e prevedibile che sia. Abbiamo disputato anche pochi amichevoli che sicuramente non hanno aiutato ma abbiamo lavorato con tante intensità. Direi molto bene soprattutto perché il primo set l'abbiamo vinto bene, il secondo merito di Ortona ci hanno messo in grosse difficoltà e anche a metà del terzo, soprattutto a metà del terzo. Il fatto che non abbiamo mollato, abbiamo continuato e la panchina ci ha aiutato a vincere questa partita è un segnale incoraggiante e ottimo.